E' di Murphy Devi piantarla di cacciarti nei guai Non so cosa ci sia sotto ma è qualcosa di grosso L'unica cosa che mi manca sono le parole Beverly Hills Cop Un piedi piatti a Beverly Hills Venerdì alle 20.45 su Italia 1 Polei, dovevo immaginarlo che c'era di mezzo